buongiorno in questa video lezione ci occuperemo brevemente e schematicamente della grande stagione della lirica greca per vedere più da vicino quali poeti siano stati effettivamente i modelli di orazio anche in relazione allo sviluppo cronologico della letteratura greca nel suo complesso la letteratura greca comincia con l'epica eroica comincia con omero comincia con l'iliade l'odissea dopo omero è venuto esiodo che noi abbiamo già menzionato come antecedente della poesia didascalica esiodo è l'autore della teogonia cioè si è occupato da un lato della genealogia degli dei e delle opere i giorni un poema didascalico dedicato ai giorni migliori per la coltivazione della terra che abbiamo già menzionato come antecedente delle georgiche di virgilio dopo la grande stagione dell'epica che è arcaica che all'inizio proprio della letteratura e che quindi possiamo mettere in alto nel nostro schema arriva per l'appunto la stagione della poesia lirica ma prima di trattarne dobbiamo fare chiarezza su che cosa intendiamo esattamente con questa definizione e quindi ecco una scheda quando modernamente parliamo di poesia lirica intendiamo una poesia che esprima in modo soggettivo il sentimento del poeta frequentemente diciamo pure nella maggioranza dei casi questo sentimento ha natura amorosa ma non mancano le riflessioni civili o politiche il pensiero può andare ad esempio alla lirica del 2300 italiano dante compreso la definizione deriva dalla parola greca l'uriche che a sua volta deriva da l'ure che è uno strumento musicale quello che i romani chiameranno l'ira ossia una specie di cetra uno strumento a corde la definizione di l'uriche sottinteso poesis cioè appunto poesia lirica indicava una prassi esecutiva non il contenuto dei versi designava cioè la poesia accompagnata dalla lira ossia da quel particolare strumento usato da chi cantava sappiamo per certo che si trattava di esecuzioni cantate chi cantava poteva farlo a solo e allora gli antichi parlavano di lirica monodica oppure in coro e ovviamente gli antichi parlavano di lirica corale poiché però già nel mondo greco la poesia accompagnata con la lira e cantata da una voce solista aveva normalmente contenuto fortemente soggettivo e personale la definizione passò dalla descrizione della forma cioè il modo in cui la poesia veniva eseguita a quella del contenuto abbiamo cioè un primo esempio di definizione in cui l'aggettivo impiegato che propriamente si riferisce ad un aspetto della forma nel caso specifico della esecuzione passa ad indicare il contenuto ecco perché modernamente al di là di quella che fu la tradizione greca la poesia lirica è per noi la poesia di carattere soggettivo e personale quella che noi genericamente chiamiamo la poesia lirica greca fu poi in realtà divisa in maniera abbastanza rigida in sottogeneri ad opera dei grammatici alessandrini il primo gruppo il primo sottogenere di cui dobbiamo occuparci è la poesia giambica rappresentata dai nomi di archiloco e iponatte prima di dire qualche parola in più però anche in questo secondo caso cerchiamo di capire in che senso gli antichi parlassero di poesia giambica e quindi ecco una scheda il giambo è propriamente un metron ossia uno di quegli elementi costitutivi della metrica antica metrica vi ricordo quantitativa cioè fondata sulla quantità ossia sull'alternanza di vocali lunghe e vocali brevi accorpate appunto in unità metriche che in grecia erano dette metra e per usare la terminologia latina possono essere definite piedi la particolare successione di lunghe e brevi era ripetuta secondo particolari schemi quando ad esempio abbiamo parlato di esametro dattilico intendevamo uno schema che ripeteva per sei volte con le sostituzioni consentite e tenendo conto che l'ultimo piede è catalettico sia manca di una sillaba ripetevano sei volte un dattilo ossia il metron costituito dalla successione lunga breve breve con accento convenzionale nella lettura moderna sulla lunga di partenza la successione standard di sei dattili con le sostituzioni consentite produce quindi l'esametro epico per esempio il primo verso delle neide la cui lettura metrica è appunto armavi rumque canotro equi primus a boris dove armavi rumque sono dattili nel giambo la successione è rappresentata dalla sequenza breve lunga con accento sulla lunga con un ritmo quindi ntà 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 vero è che i greci usavano però una unità metrica di due giambi e quindi più propriamente dovremmo parlare di dimetron e questo spiega perché il trimetro giambico cioè tre giambi contava in realtà una successione di sei giambi e il tetrametro giambico contava otto giambi il giambo fu usato soprattutto nella poesia contenente attacchi aggressivi contro specifici avversari molto spesso chiamati per nome molto spesso odiati dal poeta per ragioni personali quindi è una definizione che nasce relativamente alla forma dei versi ma passa ad indicare il contenuto per il mondo antico in particolare quello greco la poesia giambica è antonomasticamente quella di aggressione verbale nei confronti di un avversario archiloco e iponatte quindi rappresentano per orazio i modelli di questa poesia aggressiva ad personam che si concentra su un avversario molto spesso chiamato per nome e coperto di insulti essendo il poeta archiloco il più antico dei due nato nell'isola di paro questo permette a orazio di utilizzare l'espressione di aggressività paria o spirito di paro per intendere appunto questo tipo di caratterizzazione della poesia che fa tucur riferimento all'illustre modello rappresentato da archiloco questo dunque il jambo esiste poi una sezione un sottogenere che possiamo definire di lirica monodica cioè in cui i poeti cantavano a solo che contiene all'interno a sua volta in qualche modo una differenziazione nel senso che i poeti più arcaici sono gli esponenti della cosiddetta lirica eolica la cui definizione fa riferimento non tanto al metro non tanto alla prassi esecutiva quanto piuttosto al dialetto impiegato mentre dopo questa lirica eolica i cui esponenti sono saffo e alceo esiste un terzo nome che possiamo considerare tra gli esponenti maggiori della lirica monodica che è quello di anacreonte il quale però scrive in ionico a questo punto vale la pena di fermarci un attimo e fare chiarezza sull'uso della lingua e cioè in che modo e in che senso i vari dialetti greci entrassero in gioco nella definizione di questi sottogeneri e quindi ecco una scheda abbiamo già avuto modo di dire ma ripetiamolo che le diverse poleis della grecia classica non parlavano una lingua realmente comune parlavano dialetti diversi con delle caratteristiche piuttosto marcate dal punto di vista regionale oltretutto dato il frequente ricorso al fenomeno della deduzione di colonie per cui una città fondava una sua colonia in un'area geografica completamente diversa il quadro geografico che ne risulta è particolarmente complicato cioè non si può semplificare dicendo che ad est parlavano una determinata variante ad ovest ne parlavano un'altra il quadro generale come dicevo è particolarmente intricato i greci si capivano tra loro ma non era difficile individuare la specifica provenienza di ciascuno e capire appunto che tipo di dialetto parlava i principali ceppi dialettali erano tre lo ionico diffuso principalmente nella grecia continentale e di cui l'attico cioè la lingua che veniva parlata ad atene era una variante importante quando i vostri compagni del liceo classico dicono che studiano la grammatica greca studiano sostanzialmente la grammatica dell'attico e questo li pone se sono bravi naturalmente nella condizione di tradurre con una certa facilità anche lo ionico tanto per fare un esempio banalissimo a proposito di nomi che abbiamo comunque già fatto tucidide e senofonte scrivono in attico ma erodoto lo storico più antico scrive in ionico poi il dorico la lingua del peloponneso che per una convenzione letteraria che prenderete per fede senza che ve la spieghi divenne la lingua dei cori cioè tutte le parti corali della letteratura greca avevano almeno una patina dorica cioè se non erano proprio scritte in dorico erano scritte in maniera che potessero sembrare dialetto dorico attenzione i vi compresi i cori del teatro quindi i cori della tragedia e i cori della commedia e infine terzo ceppo dialettale era quello del eolico cioè la lingua parlata in alcune delle isole orientali quelle che stanno in faccia alla costa dell'anatolia tra le quali l'isola di lesbo dove nacquero saffo e alceo anche saffo e alceo i poeti appunto che usavano il dialetto eolico rappresentano per orazio un modello sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista metrico ma dei due sicuramente il più importante per orazio è alceo alceo è il poeta che la tradizione ricorda legato all'uso del vino come consolazione degli affanni della solitudine della sofferenza il vino è l'amico dell'uomo per alceo e in più alcuni dei componimenti superstiti di alceo parlano di politica e in particolare attaccano quello che all'epoca era il tiranno di mitilene cioè la capitale dell'isola di lesbo e vedremo che uno dei frammenti di alceo viene imitato anzi adattato da orazio alla realtà romana e di questo parleremo nella video lezione in cui affronteremo i testi per amor di verità vale la pena di dire che dopo saffo e alceo i poeti eolici e la figura di anacreonte un terzo lirico monodico che però scrive in ionico da cui orazio trae alcuni esempi metrici esisterebbe anche un terzo gruppo di un terzo sottogenere di lirici rappresentato dai poeti che usano il distico elegiaco quindi i poeti elegiaci tirteo callino solone e mimnermo questi però in realtà sono sono meno importanti non sono dei modelli diretti in realtà per orazio tra questi nomi peraltro dovreste riconoscere quello di solone che è lo stesso solone che fu il legislatore di atene che condusse la polis verso la compiuta realizzazione della democrazia quindi messi da parte i poeti elegiaci c'è un quarto sottogenere della lirica greca che è la cosiddetta lirica corale proprio perché le poesie venivano scritte per essere cantate da un gruppo di coreuti da un gruppo di musicisti professionisti anche qui la tradizione ci ricorda più di un nome bachilides tesicoro alcmane ma soprattutto quello di pindaro pindaro fu il più famoso pagato e apprezzato autore di epinici cioè di componimenti pubblici scritti per coro che celebravano la vittoria dei vincitori nelle numerose competizioni sportive che la grecia organizzava ciclicamente le più famose delle quali sono naturalmente le olimpiadi e pindaro in effetti ha scritto una raccolta di epinici per i vincitori ai giochi olimpici il nome del poeta pindaro è nel linguaggio comune spesso messo in relazione con l'espressione di volo pindarico quindi noi approfittiamo brevemente di questa occasione per parlare brevemente spiegare che cosa sia effettivamente un volo pindarico con questa scheda quando si parla di volo pindarico si allude a una digressione che si allontana dalla situazione di partenza normalmente ripresa solo alla fine del componimento secondo la tecnica della rincomposizione o composizione ad anello di rincomposizione abbiamo già parlato si tratta appunto della tecnica per cui partendo ipoteticamente da un punto della circonferenza portando avanti il discorso idealmente la si percorre tutta per ritornare al punto di partenza molti parlano di volo pindarico senza sapere chi pindaro sia stato ma un esempio lo possiamo trovare in una delle sue composizioni nella prima olimpica cioè il grande inno di celebrazione pubblica che pindaro dedica alla vittoria di ierone di siracusa il tiranno nella gara del cavallo montato da un fantino per la verità si celebrava il padrone del cavallo e non il fantino ed ecco perché pindaro scrive per ierone la vittoria è accennata soltanto all'inizio e alla fine di questo lungo epinicio cioè di questo lungo componimento per la vittoria epinicio è parola greca che deriva dall'espressione epinichè cioè per la vittoria dopo aver ricordato ierone la gagliardia del suo cavallo pindaro si allontana subito da questo tema e narra il mito di pelope figlio di tantalo che con l'aiuto del dio posidone vinse una gara di cavalli quindi un tema comunque inerente a ciò che si sta celebrando e ottenne così la mano della bella ipodamia e solo al termine di questo lungo articolato e raffinato racconto mitico pindaro ritorna idealmente ad olimpia e alla vittoria di ierone chiudendo così appunto la rincomposizione dopo questa articolata stagione della poesia lirica la letteratura greca prosegue sviluppando sostanzialmente il teatro quindi la tragedia e la commedia e in qualche modo di commedia dovremo parlare non nel senso che esplicitamente orazio si rifaccia alla commedia ma perché gli sostiene che le sue satire hanno tra i propri modelli la commedia greca arcaica se ricordate ne avevamo parlato a proposito di plauto la commedia greca non è monolitica ma si divide in tre periodi esiste una commedia greca antica una commedia greca di mezzo una commedia greca nuova i poeti come plauto e terenzio imitano i poeti della commedia di mezzo della commedia nuova mentre la commedia arcaica la commedia antica non non viene ripresa a roma ebbene orazio nelle satire sostiene invece di rifarsi proprio alla commedia antica dopo la grande stagione del teatro in qualche modo la letteratura greca va verso la stagione dell'ellenismo qui le questioni si farebbero intricate e articolate però vale la pena di ricordare almeno un nome sempre quello quello principale il più grande poeta dell'ellenismo cioè callimaco da cui orazio riprenderà alcuni spunti sia perché anche callimaco fu autore di giambi sia perché era il teorico di quella varietà di situazioni accenti e ricchezza linguistica che in greco si chiama poi chilia e che fu uno degli ideali estetici di orazio se noi portiamo questa cosa a tutto schermo ci rendiamo conto che in effetti la situazione è intricata vediamo di riassumerla ancora una volta dopo la stagione dell'epica c'è la grande stagione della lirica in cui si può identificare il giampo con archiloco iponate modelli di orazio la lirica monodica eolica safo e soprattutto alceo modello di orazio la lirica monodica ionica con anacreonte modello almeno metrico di orazio e poi la lirica corale in cui pindaro costituirà per orazio il modello fondamentale per l'aspetto solenne monumentale pubblico dopo la stagione del teatro con la tragedia della commedia e alla commedia antica orazio sosterrà di essersi rifatto nelle satire nella stagione dell'ellenismo uno dei modelli significativi per orazio sarà callimaco con il suo ideale di poichilia l'estrema raffinatezza e la condizione di poeta doctus cioè di poeta dotto che orazio sostiene di condividere appunto con callimaco certamente è complesso c'è anche da dire che se al liceo classico per arrivare da omero a callimaco ci mettono tre anni una ragione ci sarà più che per memorizzare nel dettaglio tutte queste cose mi auguro che questa video lezione possa esservi utile per la consultazione cioè per andare a rivedere chi sono questi personaggi che la trattazione sia degli altri filmati sia del libro ogni tanto chiama in causa